Educazione, intelligenza e merito, la sfida educativa. Questo il titolo del partecipato seminario ospitato nella Salex Refettorio della Biblioteca Sperelliana di Gubbio e organizzato dalla direzione didattica del secondo circolo Aldomoro. Un'occasione per educatori, insegnanti, genitori, studenti ed esperti del settore per condividere esperienze, confrontarsi su pratiche innovative e gettare le basi per futuri progetti educativi. Per un ampio momento di riflessione voluto dalla dirigente scolastica Maria Gioia Pierotti in sinergia con la professoressa Fabiana Cruciani, dirigente dell'Istituto Tecnico Volta di Perugia e il coinvolgimento delle docenti intervenute durante l'incontro. Abbiamo il piacere di raccontare la nostra offerta formativa all'intera comunità educante attraverso tutte le aree del nostro curricolo e nuovi progetti che sono stati inseriti da quest'anno nella nostra offerta formativa. Dalle discipline STEAM che comprendono scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica passando per l'inclusione scolastica, competenze civiche e cittadinanza attiva, metodo Montessori, scuola senza zaino, la valenza della continuità, infanzia primaria per un passaggio naturale e conseguenziale tra i diversi livelli di istruzione, senza dimenticare anche la lingua inglese sin dall'imprinting scolastico e le opportunità offerte dalla collaborazione internazionale attraverso progetti come l'e-twinning e la promozione di una cultura di pace. Al centro di ogni ambito però c'è sempre e comunque la formazione dell'alunno. È un momento di incontro e di narrazione, è uno storytelling del nostro curriculum di istituto che mette sempre al centro dei propri interventi l'alunno perché quello che ci sta particolarmente a cuore chiaramente l'alunno, i bisogni dell'alunno, i talenti dell'alunno, le passioni dell'alunno. È questa la sfida educativa che si pone la nostra scuola.